registrazione, ok bene, direi che possiamo iniziare se come sempre qualcuno mi da cortesemente un feedback sulla chat è solo dire che si sente così, grazie, perfetto quindi possiamo iniziare questa video chat ho mandato da poco, da mezz'ora circa un messaggio su Slack che diceva appunto che ho aggiornato la pagina del corso quindi la solita pagina dove consultate diciamo tutto quello che c'è da sapere sul corso e forse c'è chissà perché c'è questa riga a destra il pasticcio con la tabella vabbè, comunque il contenuto c'è che è quello che conta quindi siamo al punto qui giovedì 28 maggio vado ad agio così diamo il tempo anche a chi è un attimo in ritardo di collegarsi giovedì 28 maggio nella video chat che in realtà ha poco di video ma va bene così e possiamo discutere come sempre di tutti i dubbi che avete sulla parte teorica sulla parte pratica il laboratorio l'esame se ritenete se avete domande e così via questa settimana abbiamo pubblicato due video come avete visto c'è il root react quindi come fare le applicazioni single page application ma in realtà con più pagine che compaiono sull'ur del browser e poi un meccanismo per fare autenticazione e autorizzazione che è questo token JVT che diciamo è uno dei meccanismi più utilizzati nelle single page application e poi sono stati pubblicati da me e il professor Corno degli esempi quindi in questo momento a livello di lezione in aggiunta ai laboratori ci sono due esempi che stiamo portando avanti uno più piccolino che è quello del client server dove ci sono al momento tre modi quei tre modi di cui abbiamo parlato per far parlare insieme due server quello dell'API REST e quello di React e in più è stato aggiunto un ulteriore branch facendo vedere come funziona il router di React o meglio la libreria che integra il router in React e poi c'è il React Scores l'esempio degli esami in cui ho inserito questo meccanismo di autenticazione JVT per ora non c'è ancora il router è ovviamente una buona applicazione essere candidata all'uso del router perché vogliamo almeno una pagina addizionale che è quella pagina di login in questo momento è stato fatto il tutto con dei componenti che compaiono e scompaiono secondo lo stato che come abbiamo detto nella lezione del React Router è una possibilità ma non è certo consigliata soprattutto perché non scala perché appunto per tutti i problemi che abbiamo detto a lezione non compaiono gli URL sulla barra del browser non si può andare avanti e indietro eccetera eccetera però diciamo che lì serviva fondamentalmente a far vedere in questo momento almeno un esempio con il JVT ok ho fatto questa introduzione c'è una prima domanda ok possiamo spiegare brevemente l'esempio dell'autenticazione ci sono alcune cose che non mi sono molto chiare andiamo a vederle allora intanto metto la domanda qui sopra così rimane anche per chi ci segue poi in registrato ho solo bisogno di un istante di tempo per andare a fare il pull del GitHub perché non l'ho fatto su questo computer quindi dovremmo avere il React Scores lo faccio ok quindi il JIT branch dobbiamo fare il check out lo faccio a mano potete fare la stessa cosa del Visual Studio Code sono un po' meno pratico sul Visual Studio Code nel momento in cui non creo tutto da lì dentro adesso siamo nel without e questo è React Scores poi li apriamo nel Visual Studio Code scarico anche col clone è la cosa più facile https github appunto con la parte server quindi pulito 1 2020 React Scores server ops ho sbagliato era w a teniamo tutto sullo stesso è pubblico quindi non deve esserci necessità di password React Scores server e andiamo a vedere qual'è il branch ops meno a e adesso l'abbiamo creato non mi ricordo come si fa togliere forse meno r o meno d a si ecco quindi andiamo a fare il check out il check out è l'operazione che vi fa cambiare di branch nel nell'architettura del git with out ok e adesso abbiamo il with out adesso li apriamo del viso studio potete anche scaricarli con uno zip semplicemente metterli in una cartella fatto così semplicemente perché sono diciamo più abituato a fare questa cosa in questa maniera dunque questo è il client server example direi che potremmo aprire dunque questo l'abbiamo messo in corso ok facciamo che apriamo direttamente la cartella react scores e vedo queste sono le domande vecchie ecco e poi possiamo aprire anche l'altra quindi add folder e prendiamo anche il server così ce l'abbiamo già pronto e ci compare qui a sinistra abbiamo due progetti due cartelle anzi react scores e react scores server apro un'ultima cosa che è il file delle domande così ce l'abbiamo a disposizione domande perché va bene allora io commento un po' tutto se poi ci sono dei punti specifici che vale la pena approfondire appunto cose che io penso fossero chiare e invece non lo sono andiamo me lo scrivete sulla chat io intanto vedo anche la chat sul secondo schermo e quindi dovremmo essere dovrei essere in grado di vedere appunto cosa scrivete dunque allora l'esempio dell'autenticazione quindi abbiamo un'app che è il componente di livello più elevato in react scores quindi quell'esempio che fa girare appunto la pagina in cui c'è la lista degli esami e abbiamo lo stato che mantenevamo qui e c'è l'esami i corsi il modo che avevamo già utilizzato e qui ho esteso come vi dicevo prima non avendo usato il router ho fatto diciamo ho preso una corciatoia e in questo momento ho creato un paio di componenti uno che è il form di login e uno un bottone di logout e quindi ho dovuto lavorare sul modo poi c'è edit tag exam che c'era già prima l'error message che c'era di nuovo prima perché è il posto dove andiamo a visualizzare o meglio questo è lo stato quindi è la variabile nella quale andiamo a mantenere l'ultimo errore che è stato comunicato dal server per poterlo visualizzare poi abbiamo questo login error che ci dice sostanzialmente se è stato se si è verificato un problema in fase di login quindi mettiamo il messaggio diciamo username e password errati quindi questa è la variabile che ci consente di fare ciò e poi c'è questo token che abbiamo detto adesso non preoccupiamocene troppo ho voluto far vedere un esempio abbiamo voluto far vedere un esempio completo quindi che gestisca anche questo problema che è tipico dell'implementazione coi cookie però diciamo questo è un aspetto più secondario per lo meno per gli scopi di questo corso ok quindi qui le modifiche che sono state fatte e che tra l'altro dovreste anche poter vedere nel momento in cui adesso questo commit no bisogna andare a prendere il commit corretto dell'altro branch che è un po' macchinoso vabbè comunque lo vedete più facilmente su un'interfaccia web comunque andiamo a vedere cosa ho fatto sostanzialmente ho inserito questo logout che non è nient'altro che un bottone che va a richiamare la funzione user logout che ho definito qui dentro come esistono già le funzioni che fanno l'insert delete update degli esami eccetera una funzione di login una funzione di logout ho riciclato l'optional error message anche per dare il messaggio di errore di login quindi i componenti come vedete si possono riciclare semplicemente quello che ci fa comparire quella barretta quella striscia rossa che ci manda il messaggio di errore con una casellina una x che possiamo cliccare per chiudere e poi ecco la cosa più nuova è forse il login form guardiamo il login form che ho messo in login component potevo chiamarlo component in effetti questo non è in realtà come un altro form fatto esattamente come l'altro quello che gestisce gli esami quindi ha uno uno stato che di fatto contiene il contenuto dei campi del form e io qui semplicemente per comodità li ho pre-inizializzati ai valori che poi uso sul server per fare il login così non è che tutte le volte devo scrivere user password eccetera però questo è semplicemente una pura comodità e poi ho voluto usare ancora un flag ulteriore sempre nello stato per disabilitare il bottone di login nel momento in cui ho premuto il bottone stesso perché non voglio che uno faccia due volte il click sul login una volta che ho preso il click andrò a chiamare login e aspetto l'esito dell'operazione bene quindi qui in realtà come l'altro form non penso ci sia particolare cose da vedere quindi c'è un form va bene post in realtà questo diciamo potevamo anche risparmiarcelo perché tanto il post lo facciamo poi per conto nostro con la nostra funzione ci sono due campi username e password fate attenzione a mettere il type password perché così viene fuori gli asterischi i puntini quando scrivete ma a parte questo c'è il metodo on change che va ad aggiornare lo stato e poi c'è il bottone che fa il login o un click che fa il do login quindi direi che la parte più interessante è probabilmente il do login ah ecco questo mi sa che è rimasto il cancel form probabilmente lo potevo tirar via ho fatto copia in colla dell'altro form e chiaramente è rimasto qualcosa in più ma credo che nessuno chiami questa funzione va bene do login prevent default mi raccomando perché non dobbiamo mai fare l'operazione di sottomissione se no ci ricarica la pagina check validity credo di aver messo il required true quindi dobbiamo scrivere uno username se tutto va bene facciamo la chiamata user login passando lo state username e password ok io sto andando avanti se qualcuno ha dei dubbi scrive sulla chat io guardo e se ci sono problemi mi fermo e spiego quello che c'è o può intervenire anche direttamente a voce dovreste avere la possibilità di aprire direttamente il microfono perché io ho cliccato che tutti potevano aprire il microfono diciamo per conto loro almeno ok quindi abbiamo torniamo sull'app e quei metodi che abbiamo visto sono passati come delle properties quindi user login è una property property è una props passata al form al componente del form e quindi user login e questa è la sua implementazione this state mode login in progress semplicemente perché volevo diciamo fare in modo di come dire avere lo stato l'informazione di stato che mi dice che sto facendo il login nel momento in cui avrò finito farò mode view perché se faccio immediatamente mode view mi vengono immediatamente chiamate le diciamo le API per fare il caricamento dell'informazione che non è quello che volevo voglio attendere la risposta in login in progress sostanzialmente ho l'opportunità di far vedere il risultato del login nel caso in cui ci sia un problema quindi l'errore user nemopassword errato quindi ho un API che ho definito apposta user login che va a passare user password contatterà il server e asincrona quindi nel momento in cui chiudo la promise che mi ritorna questa funzione dell'API che è fatta esattamente come le altre poi andiamo a vederla io dico ok this state mode ah no scusate in realtà c'era un modo ulteriore che era loading nel quale attendo il caricamento a questo punto delle informazioni degli esami e dei corsi e non c'è stato login error e vado a chiamare l'oad initial data che fa il caricamento appunto degli esami l'oad initial data carica gli esami e i corsi e li mette nello stato e qui tanto per fare un po' di esercizio ho fatto una modifica ho fatto un array di promise e attendo che tutte siano completate quindi attendo il caricamento di entrambe e poi faccio fare il set state questo è diciamo anche per fare un po' di esercizio è una cosa ogni tanto ripassiamo un po' le varie cose ok load the data nel momento in cui funziona tutto bene c'è questa cosa del csrf che dicevamo vabbè se la vogliamo mettere la mettiamo se no diciamo che le soluzioni che ci fornite vanno bene anche senza noi volevamo solo fare un discorso completo dobbiamo ricavare questo token da un API di nuovo che ho scritto qui per andare a fare la fetch e sul server per andare a dare questo token e lo prendiamo e lo mettiamo nello stato finito e questo token ci servirà per evitare il problema del cross-site request forgery cioè il csrf sulle API del server però un pezzo in più di nuovo non voglio focalizzarmi troppo su questo se poi qualcuno è curioso me lo scrive sulla chat approfondiamo per quanto conosciamo noi perché appunto cioè serve un corso intero per affrontare i problemi di sicurezza infatti c'è un corso intero che è il corso adesso non mi ricordo più come si chiami esattamente ma sister security qualcosa così quest'anno forse l'hanno anche cambiato rivisto un po' nel momento in cui il login fallisce io faccio un reject quindi nell'API farò un reject della promise e quindi vado a finire nel catch e nel catch faccio set state login error true e ritorno in modo login quindi in uno stato iniziale e login error true fondamentalmente farà sì che nel momento in cui stampo il messaggio di errore venga fuori iscritto wrong username e password diamo un'occhiata all'API quindi l'API avrà user login che è semplicemente copiato dalle altre è un post login con the type application json e mettiamo dentro un oggetto json con scritto lo username e la password nel momento in cui va tutto bene resolve quindi finiamo nel then del codice di prima nel momento in cui c'è qualcosa che non va quindi di solito ci viene comunicato col codice non autorizzato 401 400 qualcosa del codice HTTP e quindi non entriamo nel response ok che sono solo i codici della serie 200 e allora andiamo a vedere se c'è un oggetto che ci dà l'errore ulteriori informazioni sull'errore nel momento in cui non ci sono diciamo come si dice se abbiamo delle informazioni che provengono dal server le andiamo a impostare altrimenti quindi tipo non so non ci viene restituito un oggetto json per qualche motivo e va bene possiamo dare questi messaggi abbiamo problemi di comunicazione del server altrimenti sostanzialmente facciamo reject con l'oggetto l'oggetto user in realtà qui non lo utilizziamo lo usiamo questo codice lo usiamo poi nelle altre quindi qui in realtà diciamo diamo per scontato che se finiamo nella catch non è un codice 200 c'è stato un problema e diciamo che c'è stato un problema appunto wrong username password chiuso nelle altre API invece abbiamo questa handle error che ho centralizzato e che sostanzialmente va a verificare cosa c'è dentro l'oggetto e fa il set state del messaggio di errore quindi lo fa comparire e poi fa ancora una una cosa queste sono tutte diciamo abbellimenti dell'applicazione la funzionalità c'è già in quello che abbiamo visto però tanto per farvi vedere un esempio un po' più realistico che funzioni un po' più un po' meglio rispetto appunto a un esempio proprio semplice semplice in cui non gestiamo errori non facciamo niente eccetera ho deciso di in caso di status 401 set timeout portiamo l'applicazione in modo login quindi nello stato iniziale resettiamo l'error message eccetera dopo due secondi quindi un po' come quando ho fatto qualcosa su un sito che l'avete lasciato lì per un po' non siete più autorizzati diciamo nel sito normale vi è scaduta la sessione vi riporta la pagina iniziale con login e questo fa la stessa cosa con un set timeout che va a richiamare la set state dopo un certo periodo di tempo ok forse ancora un'ultima cosa poi passiamo alla parte server c'è un user logout che è estremamente semplice chiama l'API user logout e poi porta lo state a login quindi di nuovo form con l'autenticazione e basta lo user logout è chiamato da un bottone quindi logout un componente che di fatto è un solo bottone che ha come properties user logout e la user logout sempre nell'API va a chiamare l'API di logout a cui non passo niente come body perché non c'è bisogno di nulla la sessione meglio il token jvt da cancellare dal server e dal client che è mantenuto nel cookie è passato automaticamente quindi sul server ci arriverà automaticamente tutto gestito tramite il jvt dentro il cookie e quindi in realtà io posso fare resolve reject cambia poco diciamo per l'applicazione nel senso che ho chiamato la logout la logout mi manderà indietro un header che sostanzialmente fa una set cookie del cookie nel passato e quindi cancella il cookie e finisce lì in questa maniera ho cancellato il cookie non posso farlo via javascript perché ho usato un cookie http only che adesso andiamo a vedere sul server ultima cosa prima di spostarci sul server avevamo intravisto quel get csrf token che è di nuovo una normalissima fetch senza l'opzione del metodo quindi una get che va a recuperare il token e viene messo come json e basta quindi niente di particolare ho fatto copia e incolla dei codici precedenti ho preso quando mi serviva la get ho preso la get quando mi serviva una post ho preso una post andiamo su server chiaramente tutto questo dovete farlo funzionare appunto con react scores server ho pensato di fare un repositor riseparato semplicemente perché avevamo iniziato con react scores che non aveva una cartella client e una cartella server forse non abbiamo non è il massimo chiameremo i branch nella stessa maniera dovete scaricarveli separatamente ma facciamo questo dettaglio tecnico ok guardiamo il server sul server abbiamo ecco le cose nuove che abbiamo visto nella lezione dell'autenticazione quindi dobbiamo importare due moduli che sono il middleware jvt e la libreria per gestire il json web token il jvt e poi dobbiamo importare anche questa libreria che serve a fare il parsing dei cookie perché abbiamo deciso che il jvt lo teniamo nei cookie e chiaramente non vogliamo scrivere nessun codice per andare a cercare di indire il cookie eccetera i cookie sono meccanismo standard quindi qualcuno sicuramente ci fornisce una libreria per gestirli la usiamo punto alla fine ci sarà poi anche questa per il csrf ma come dicevo secondario come abbiamo visto nelle slide alla fine io ho fatto il copio e incolla di questo codice nelle slide perché prima ho sviluppato la soluzione e poi l'ho messa nelle slide anche per assicurarmi che tutto funzionasse e di non aver dimenticato nulla bene dobbiamo stabilire un secret quindi una chiave che conosce solo il server e nel nostro caso usiamo il meccanismo della shared key quindi c'è un'unica chiave per firmare i token e per verificare i token quindi non c'è il meccanismo chiave pubblica privata ma per noi basta questo l'importante è capire che il token ha una maniera per essere creato che può fare solo il server di autenticazione e una maniera per essere verificato che può fare solo il server di autorizzazione e nel nostro caso i due server coincidono non ci mettiamo a fare cose particolarmente complicate nel momento in cui non coincidessero avremmo potuto separare i due server e dare o in questo caso la stessa chiave entrambi oppure dare appunto il meccanismo chiave pubblica privata quindi ci stava la chiave privata sul server che vi faceva login e poi doveva far sapere la chiave pubblica ai server di autorizzazione e con quella gli altri verificavano la firma del JWT ok qui dentro potete scriverci qualsiasi cosa io mi sono andato su un sito che sparava caratteri a caso ho copiato un po' di caratteri deve essere sufficientemente lunga questo ve lo raccomando non dovete fare il commit su github come invece ho fatto io ma perché altrimenti vi mancava un pezzo e l'esempio non funzionava così com'è nel momento in cui lo scaricavate e non mi piaceva però come detto a lezione attenzione a non mettere i secret sul 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 diciamo pubblici perché ovviamente se no non sono più segreti e chiunque può andare a creare un token per la vostra applicazione nel momento in cui conosce questa stringa segreta ok direi che quindi qui non c'è niente da vedere di particolare vediamo come funziona il login quindi il login è l'API che viene richiamata dal client da quel form do login che poi va a fare user login che poi va a fare una fetch con il metodo post passando username e password nel body nel body json quindi io li recupero semplicemente così rec body username rec body password avrei forse potuto essere un po' più robusto perché se per caso qualcuno mi manda un oggetto che non non ha username e password vabbè potevo controllare che fossero diversi da che esistessero non fossero undefined ok come viene fatta questa operazione di estrazione di informazione da json bene è tutto automatico perché noi avevamo già messo app use express json questo c'era già perché tutte le API che facciamo prendono il json e quindi anche quella di login automaticamente si vede content type json che abbiamo impostato lato client si interesserà e ci metterà a disposizione i campi nel body dell'oggetto json che arriva a questo punto chiamiamo nel DAO una check user password che ho implementato in maniera estremamente semplice nel senso che non ho voluto andare a fare ulteriori modifiche quindi cambiare lo schema del database mettere una serie di utenti password magari poi lo faccio giusto per far vedere come si potrebbe fare però diciamo di nuovo questo è un dettaglio da qualche parte è lato server che è la parte che anche ci interessa meno in questo corso qualcuno va a verificare che lo username e password che sono stati inseriti siano validi e mi dà una risposta e la risposta è sono validi e quindi la promise visto che l'operazione è asincrona perché va a leggere il database eccetera la promise viene risolta se sono validi e viene rigettata se invece non sono validi o c'è stato qualche altro problema quindi nel momento in cui sono validi bene io ritorno indietro dell'informazione che è l'informazione che voglio mettere nel JSON Web Token come abbiamo detto a lezione deve esserci almeno l'informazione di chi è l'utente no? perché senza quello poi come faccio in fase di diciamo di verifica della possibilità di accedere all'API REST a sapere qual è l'utente no? l'API REST si baserà sull'informazione di chi è l'utente per decidere cosa far vedere nella nostra applicazione in questo momento non abbiamo gli utenti no? quindi in realtà questa informazione non viene usata in questo momento perché restituiamo sempre la stessa cosa indipendentemente dall'utente ma se voi aveste degli utenti diversi questi utenti diversi hanno dato esami diversi quindi leggendo l'informazione degli utenti farete vedere delle informazioni differenti quindi restituirete dei JSON differenti che corrispondono alla lista degli esami di quell'utente ok? in questo momento l'applicazione non ha gli utenti quindi l'unica cosa che viene fatta è consentire l'accesso all'API che ci danno le informazioni quindi lista esami lista corsi modifica dei corsi no scusate modifica degli esami cancellazione esami eccetera solamente a chi ha il token ok quindi le operazioni di login fa la firma del token cioè crea il token JSON web token nella libreria sign firma questo contenuto del token che decidiamo noi in questo momento non abbiamo gli utenti per cui ho messo un utente finto potenzialmente potete scrivere più cose qui però cose che servono eventualmente in fase di autorizzazione nell'API REST però qui abbiamo mantenuto la cosa più semplice possibile e inoltre ricordatevi che questa informazione quindi questo token che sono quei caratteri diciamo che abbiamo visto appunto del JWT separati da due punti header payload e firma può diventare grosso è già un token normale sui 300 caratteri qualcosa di questo tipo che è molto più grosso di un normale cookie di sessione che magari sono non so una ventina di numeri o trentina o cose di questo tipo quindi cerchiamo di non esagerare nell'informazione che mettiamo nel payload di solito appunto lo user ID è sufficiente perché poi verrà aggiunta anche altra informazione automaticamente che per esempio il tempo a cui scade il token eccetera ci serve il secret quindi quella stringa casuale se ce la diceva sì quella lì che viene usata per calcolare diciamo la firma e poi vi raccomando di mettere una scadenza ci sono le opzioni che abbiamo visto sulle slide le più importanti expire scene expire time qui ho messo 300 secondi quindi vuol dire 5 minuti mettete quello che volete fate le vostre prove ho messo 300 per mettere un valore ragionevole quando faccio le prove mettevo 10 10 secondi così vedevo se scadeva la sessione e tutto quanto una volta che abbiamo il token lo restituiamo come cookie ho scelto un nome del cookie perché i cookie sono coppie nome valore e quindi devo decidere un nome per il mio cookie l'ho chiamato banalmente token potremmo chiamarlo JWT token potremmo chiamarlo PIPO quello che volete l'importante è che questo nome sia poi usato dall'altra parte dove si va a recuperare l'informazione dalla richiesta che arriva all'API REST quindi dovete mettervi d'accordo sul nome del cookie e se non aveste usato un cookie dovete mettervi d'accordo sul nome del ladder che usavate per fare questa operazione passiamo come valore del cookie il token e poi ci sono una serie di opzioni per dire al cookie di essere un cookie HTTP only quindi questa informazione finisce al browser e il browser sa che questo cookie non deve essere reso visibile al javascript perché così risolviamo alla radice tutti i problemi del cross-site scripting che vogliono dire semplicemente che qualcuno potrebbe aver scritto del codice javascript o baccato o malizioso o caricato per qualche motivo con qualche trucco a causa di bug nella nostra implementazione in qualche libreria e così via che va a recuperarci questo token per rubarcelo e andare a fare delle operazioni che non desideriamo con l'HTTP only il browser rende invisibile questo cookie al javascript javascript ha la possibilità di accedere ai cookie se voi fate adesso non mi ricordo più ma tipo document cookie o qualcosa così in javascript avete la possibilità di accedere ai cookie però questo se è HTTP only come tutti gli altri che impostiamo HTTP only non comparirà in quella lista same site true nel senso va bene è possibile usarlo solamente sullo stesso sito ma questo diciamo sostanzialmente va da sé con i cookie e poi ho messo anche una scadenza più che altro per comodità perché così il cookie scade e il browser quando vede che è scaduto lo prende lo butta via anche lui in autonomia ok perché il browser se non mettiamo questa informazione non ha la possibilità di sapere quando scade il token perché non può leggere il payload del token o meglio il payload del token non è cifrato è leggibile ma gli serve la libreria eccetera e i browser non implementano questa cosa non possiamo neanche farlo via javascript perché non vogliamo far vedere la maniera diciamo per comunicare qual è la scadenza in maniera che il browser lo butti via la scadenza è quella di mettere il cookie che scada allo stesso istante c'è solo da fare attenzione che il cookie vuole i millisecondi l'altro vuole i secondi insomma tutti questi dettagli che scoprite quando fate poi un'implementazione ok login scusi prego ma io non ho capito cioè noi restituiamo un cookie quindi creiamo un cookie di nome token e gli assegniamo un token ma questo cookie lo restituiamo al client che però non se ne fa nulla no no il client ce lo rimanda tutte le volte che farà una fetch successiva a quando abbiamo impostato il cookie quindi tutte le operazioni che fa dopo per esempio get exam get courses eccetera queste fanno viaggiare il cookie verso il server lo fa semplicemente automaticamente il browser noi non dobbiamo scrivere una riga di codice che sia una sul client per fare questa operazione questo è il vantaggio di usare il cookie tra l'altro ah ok infatti non lo trovavo dal lato client e non capivo quindi noi creiamo il cookie e poi non ce ne preoccupiamo più esatto esatto è il browser che gestisce tutto e adesso poi faccio le ho abbastanza spazio penso di si faccio le npm install eccetera lo faccio vedere così vedete che c'è questo cookie che va avanti indietro dopo che ci siamo autenticati questo è il vantaggio di usare il cookie e lo svantaggio è quella storia del csrf se invece l'avessimo passato noi come body della risposta del login oppure l'avessimo passato come header diciamo della risposta http avremmo dovuto scriverci del codice javascript sul client e ci saremmo esposti a questo potenziale problema appunto del fatto che chiunque abbia del codice javascript che gira nella nostra applicazione potenzialmente può andare a prenderselo e trasmetterlo da qualche altra parte e usarlo questa è una possibilità di implementare la soluzione appunto con jvt cioè come sempre ci sono vantaggi e svantaggi non esiste la soluzione perfetta dipende dal contesto in cui andate a operare noi riteniamo che con i cookie visto che appunto è possibile proteggerli da javascript malizioso sia diciamo la cosa migliore perché appunto altrimenti è praticamente impossibile proteggersi da tutti i casi che si possono verificare di javascript appunto da bacchi librerie malevole eccetera eccetera avessimo voluto fare diversamente potevamo ok quindi concludiamo il discorso sul login catch entriamo nel catch nel momento in cui la check user password fallisce quindi non c'è lo username non c'è la password non corrisponde non si riesce a collegare il database insomma non possiamo validare l'autenticazione dell'utente e qui giusto di nuovo tanto per fare un po' di esercizio l'abbiamo riportato anche nelle slide ho messo diciamo un ritardo avete presente che quando provate a loggarvi su un sito autenticarvi su un sistema sbagliate la password non vi risponde subito e lo fa apposta perché altrimenti se no automatizzate questa operazione e cominciate a diciamo provare tantissime password in sequenza che non so magari sono le password più usate password password 1 2 3 4 5 6 pippo non lo so tutte queste password così quindi diciamo che questo in parte ci salva da questo problema dico in parte perché in realtà chiunque può mettersi a richiamare l'API separatamente quindi non passando per la nostra applicazione e quindi in realtà non è che basta questo però di nuovo deragliamo su un discorso relativo alla sicurezza e proteggersi da questo esula dal contesto dell'applicazione web cioè dobbiamo limitare il rate al quale riceviamo le richieste sull'API però non fa niente quindi qui intanto l'ho fatto più che altro per ricordarvi che appunto con le promise potete fare tante cose anche introdurre un ritardo senza bloccare il codice perché questo non blocca il codice questo è fatto in maniera sincrona è una promise che verrà risolta nel momento in cui viene richiamata questa funzione l'esecuzione è sospesa se intanto qualcun altro richiamasse l'API nel caso multiutente il server può funzionare se invece la blocchiamo come ho visto forse nello scorso laboratorio c'era qualcuno che si era inventato tipo un for o un while non so più di 10 milioni di cicli qualcosa di questo tipo si questo introduce un ritardo ma blocca l'intero server ovviamente non è una cosa che desideriamo va bene introdotto questo ritardo andiamo semplicemente a rispondere 401 punto non autorizzato fine e questo l'abbiamo agganciato sul client per far vedere allora in quel caso che l'utente ha introdotto un username e password che non andavano bene e quindi il server non l'ha autorizzato e quindi non è entrato nel ramo dn e quindi non ha firmato il token e non gliel'ha mandato quindi il cookie col jvt non c'è sul client punto ok ho perso un po' di tempo sul login perché è importante capire come funziona grazie al vostro collega che ha fatto la domanda e quindi tutta questa operazione è solamente fatta per inviare un cookie al browser e poi il browser se lo gestisce senza che dobbiamo fare nulla ok torniamo poi su queste cose dopodiché io faccio use jvt che è un middleware come il dunque come il cookie parser o come quello del json quindi sono tutte cose che vengono richiamate automaticamente ogni volta che c'è una richiesta che arriva da parte del del client quindi noi facciamo in modo che venga richiamato questo middleware jvt che viene inizializzato con un oggetto che dice che il segreto da usare per verificare la firma è questo che quindi è lo stesso di prima perché usiamo segreto condiviso e diamo la funzione che serve a estrarre il token token jvt dalla richiesta semplicemente prendiamo i cookies e prendiamo quello che si chiama token quindi questo nome qua questo token che ho scritto qui è lo stesso che ho messo qui tra virgolette e il nome della copia nome valore del cookie quindi se l'avessi chiamato pippo dovevo scrivere rest cookies pippo da adesso in poi per il resto del codice tutte le api richiederanno l'autenticazione perché i middleware funzionano così se io faccio up use da quel punto in poi ogni volta che arriva una richiesta listata diciamo qui sotto questa richiesta automaticamente include nelle sue operazioni da fare il middleware quindi tutte le api sotto va bene quella del token poi guardiamo courses courses code exam ah si questa è la get questa è la post put la delete ci sarà passano perché il middleware è jvt e quindi quel jvt verificherà la presenza del cookie e se il cookie è presente verificherà la firma ok e se non è presente ho scritto una funzioncina di nuovo sotto forma di middleware molto banale che di nuovo viene inserita per tutti le api che seguono che va semplicemente a vedere se l'errore è unauthorized error siccome il comportamento di default è lanciare un'eccezione e non ci va perché se lanciamo un'eccezione di fatto se non la catturiamo o blocchiamo il server non vogliamo fare questa operazione e allora ho deciso di ritornare al 401 non autorizzato e via è finita la richiesta quindi non c'è più niente da fare in più ok quindi ci resta da vedere il logout il logout è estremamente semplice nel momento in cui siamo logati autenticati come dicevo prima con questo collega il browser spedisce sempre il cookie al server fino a quando questo cookie non scadrà o se un cookie di sessione come il nostro di default viene fatto un cookie di sessione quando chiudiamo il browser se lo dimentica il clear cookie semplicemente manda come risposta un header particolare che fa scadere il cookie quindi lo toglie dai cookie del browser il browser riconosce questo header prende il cookie e lo cancella fine abbiamo risolto il problema del logout diciamo risolto per modo di dire perché come dicevamo a lezione in realtà un token jvt non si può far scadere prima della scadenza impostata se qualcuno ce l'ha rubato e lo riusa continua a funzionare perché noi verifichiamo solo la firma non abbiamo una lista di token revocati se no facciamo dobbiamo tenerci questa lista e allora il token jvt non serve più a niente perché se abbiamo una lista su server tanto vale creare direttamente gli identificativi di sessione e mantenere informazioni su server ok concludiamo il discorso con questa storia della protezione csrf cross site request forgery che è molto diciamo così facile se così possiamo dire da da implementare nel senso che usiamo una libreria senza la pretesa di entrarci nei dettagli su come funziona ma abbiamo consigliato questa csrf questa è opzionale se non lo volete fare va bene lo stesso però volevamo dare un esempio un po' più completo csrf dobbiamo configurarlo come fondamentalmente tutti i middleware anche questo csrf è un middleware gli diciamo usa i cookie quindi ha bisogno anche lei di un segreto e nel momento in cui settiamo la property cookie questa dice di usare come segreto il cookie che viene diciamo inviato nelle richieste e risposte e anche questo lo impostiamo http only e same site ok potremmo anche farlo scadere se vogliamo però diciamo su tutti i dettagli no la questione è che qui abbiamo questa diciamo questo middleware il quale andiamo ad utilizzarlo e questa volta lo facciamo in maniera esplicita avremmo potuto fare app use csrf protection punto e tutti tutti gli end point sotto lo usavano però in realtà il csrf cioè serve solo per le api che vanno a fare delle modifiche sul server no perché sono quelle pericolose sono quelle che ci creano dei problemi se qualcuno diciamo bisognerebbe entrare nel dettaglio su come funziona l'attacco del csrf però diciamo qualcuno ci fa cliccare su un link ma la risposta la riceviamo noi quindi non è che il get di qualcosa va a finire a questa terza parte che ci vuole ingannare no ci vuole fare l'attacco perché il click lo facciamo noi e la risposta viene a noi il problema è se un affetto collaterale come scrivevo nelle slide trasferisci soldi allora questo è un problema cancella qualcosa e allora questo è un problema no e quindi lo useremo solamente sulle api che vanno a fare delle modifiche sul server cioè sostanzialmente tutte quelle che non sono una get e in più su questa api che ci consente di ottenere il token perché questo middleware quando vede che non c'è il token csrf fondamentalmente lo crea e lo restituisce quindi rec csrf token ce lo crea e noi lo andiamo a restituire come body della risposta json ultima cosa ma scusi ho una domanda perché non capivo quindi in poche parole noi lavoriamo con due token diversi c'è nel cookies c'è il token che abbiamo creato noi e il token invece di autenticazione che usiamo sul client è quello che ci dà il csrf si che mettiamo nello stato e che dobbiamo gestirci noi nel javascript perché se lo facciamo di nuovo gestire automaticamente al cookie diventa uguale al cookie e quindi non abbiamo risolto nessun problema adesso perché non capivo perché non capivo perché noi in poche parole utilizzavamo un token per il cookie e poi non capivo da dove arrivasse questo csfr token e pensavo fosse la stessa cosa passata in modo diverso invece non è la stessa sono due cose completamente diverse la cosa che li unisce è che diciamo il segreto utilizzato per fare il calcolo del token csrf e il jvt però questo lo fa automaticamente lui dietro le quinte nel senso che nel momento in cui gli abbiamo detto di usare i cookie e abbiamo messo qualcosa lui ce lo fa dietro le quinte tutta questa operazione quindi non non vogliamo neanche entrare nei dettagli perché poi finisce che appunto abbiamo discusso col professor ma dobbiamo farlo vedere o no lo tiriamo via diamo un esempio completo diciamo perché ci dispiace dare una cosa che poi appunto è già subito immediatamente vulnerabile no però non volevamo adentrarci in questo perché se no ci serve una lezione intera per discutere di questo problema e poi e allora il cross-site scripting allora tutti gli injection eccetera e che sono poi problematiche tra l'altro che coinvolgono molto spesso più la parte serve che client e quindi di nuovo il corso è da 6 crediti non è da 10 e se non possiamo occuparci di tutto diciamo che questa è la maniera per usarlo se la volete usare bene se volete approfondire avete diciamo il link alla libreria potete andare a dare un occhietto come funziona che tra l'altro non è neanche tanto codice fondamentalmente anche lei ha una libreria che per calcolare questo token csrf e poi semplicemente lo passa al client adesso andiamo a vedere questo invece è gestito esplicitamente sul client volevo solo concludere sul server quindi diciamo che nell'api non nelle get ma nelle post e così via abbiamo aggiunto il mid del csrf protection quindi nel momento in cui faremo una richiesta che non ha inviato lei del csrf questa richiesta verrà rifiutata anche se è il jvt corretto perché c'è il rischio che provenga da qualcuno che ha fatto la richiesta in modo fraudolento la nostra applicazione invece fa la richiesta correttamente torno sulla nostra applicazione in particolare sull'api di ai e vi faccio vedere per esempio prendiamo la delete la delete vedete rispetto a prima ho aggiunto il token csrf che ho deciso di farmi passare come parametro e vado a prenderlo dallo stato dell'applicazione questo va fatto esplicitamente questo è il codice in più javascript che dobbiamo scrivere lato client questo si perché non possiamo farlo come dicevamo prima col client scusate col cookie che ce lo fa il browser automaticamente perché se no avere un cookie 2 3 5 tanto il browser li spedisce tutti quanti sempre l'ether invece lo mettiamo noi e se qualcuno ci ha ingannato invierà la richiesta il cookie parte automaticamente ma questo header in più non parte perché diciamo è contenuto solo nell'applicazione parte solo se stiamo facendo girare l'applicazione nel browser e non parte appunto con un semplice click esterno di richiesta verso lo stesso hostname e port quindi questo ci sarà in tutti i metodi che se lo aspettano sul server quindi nel delete nella put abbiamo aggiunto e nella post ok e lo abbiamo immagazzinato come dicevamo all'inizio adesso spero sia più chiaro nello stato quindi abbiamo questo csrf token che all'inizio è null e che a un certo punto andiamo a prendere questo lo passa semplicemente ecco dopo dopo che il login dopo che il login ha avuto successo prendo il csrf token e me lo metto nello stato fine di nuovo questo non è obbligatorio da fare nel vostro laboratorio cominciate senza anche io ovviamente ho cominciato senza ho fatto prima funzionare il jvt e se c'è poi in più bene se no non fa niente se non ci sono altre domande forse proviamo a far funzionare l'applicazione così vediamo il token jvt che va avanti e indietro ok se no io monitoro sempre la chat oppure intervenite a voce come ha fatto il vostro collega e allora quindi devo fare andare al server quindi devo fare npm install spero di avere spazio a sufficienza non è tantissimo perché gli npm install fanno sempre soprattutto quello di react mette tantissima roba si fanno il cache dei moduli localmente quindi non è che tutte le volte ci scaricano 300 mega però comunque se le copiano ok intanto c'è uno studente che ha scritto una domanda allora faccio solo l'npm install sull'altra cartella e poi intanto ci metto un attimo e vado a rispondere alla domanda quindi la copio ecco ho manipolizzato un po' l'attenzione sull'applicazione col jvt però giustamente fate pure domande mettiamola così anche più semplici quindi volevo sapere la differenza tra setState con un oggetto quindi nome stato value e setState setState callback bene la differenza nel momento in cui il value è un valore fisso è sostanzialmente nulla nel senso che entrambi i metodi sono equivalenti nel momento in cui il value è calcolato dallo stato corrente quindi se al posto di value mi mette thisState abc eccetera più uno number più uno e questo non è più equivalente perché l'operazione di setState in React è asincrona quindi questo prende lo stato all'istante in cui viene eseguito diciamo la valutazione dell'oggetto che non è l'istante al quale viene fatto il setState perché il setState è asincrono invece se scrivo la cosa come ho scritto sotto quindi dice state callback prendo ok prendo sì in realtà più che callback la callback è tutto era codice della callback è scritto callback ma è il codice della callback qui posso fare dunque lei ha chiamato nome e stato due punti state number number più uno oppure nome e stato potrebbe essere number eccetera comunque la questione è che faccio un'operazione che usa il valore dello stato precedente siccome la setState è asincrono e nel frattempo qualcun altro potrebbe aver chiamato la setState se faccio l'operazione così sono sicuro di non perdermi nessuna operazione di setState perché React si ricorderà che deve chiamare prima una funzione che è stata passata la setState poi l'altra poi l'altra non se ne perde nessuna per strada mentre invece se l'operazione la fa così React prende l'oggetto dice ah ho un nuovo oggetto ne faccio il merge con lo stato poi ho un altro setState ho un altro oggetto ne faccio il merge con lo stato però se il calcolo l'ha fatto sullo stesso stato lo stato è sempre più 1 e non sarà più 2 perché il secondo oggetto ha fatto il calcolo con lo stato iniziale che non era quello già aggiornato dalla prima operazione del più 1 e quindi si è perso un aggiornamento quindi per farla breve nel momento in cui il nuovo stato richiede di usare thisState quindi il valore corrente dello stato in qualsiasi forma un campo due campi eccetera ebbene usare questa forma passandola a callback allo stato perché così siamo sicuri che tutto quello che facciamo viene eseguito da React senza diciamo perdersi nulla delle operazioni di aggiornamento dello stato che vogliamo fare tutto viene eseguito da React in entrambi i casi sia il merge dell'oggetto sia la chiamata della callback però se facciamo il merge di un oggetto che ha un contenuto sbagliato ci perdiamo dei pezzi e questo contenuto quindi va calcolato al momento in cui la Sestate è effettivamente chiamata e cioè per fare ciò dobbiamo per forza passare una callback spero di essere stato sufficientemente chiaro chiaro ok in definitiva se devo settare lo stato usando this state devo usare la versione con la callback si esatto esatto quindi è proprio così diciamo questa è la regola pratica se vogliamo dire proprio se invece faccio tipo this state mode due punti login quello è login indipendentemente da qual era lo stato prima per cui posso non usare la callback perché non ho bisogno di sapere nulla dello stato corrente io vado in quello stato punto ok questo come avevamo detto è particolarmente importante usare la callback quando usate gli array eccetera perché quello è uno stato complicato può variare appunto e di solito è funzione di quello che è stato fatto prima perché nell'array voglio andare ad aggiungere cancellare eccetera quindi è chiaro che funziona funziona lo stato prima buongiorno ho dato un accenno agli hash router ma non ho capito bene l'utilizzo e le differenze con il router classico dunque allora facciamo così dunque intanto bisogna sapere cosa sono questi hash l'hash è diciamo un carattere particolare negli url quindi se voi fate una richiesta di questo tipo come vedete vi compare la pagina lo stesso quindi è un riferimento interno l'hash serve a fare un riferimento interno nella pagina e quindi che so faccio la sezione adesso qui non l'ho fatto perché il mio cms che uso per fare queste cose non lo gestisce però potrei fare un riferimento interno avvisi regole d'esame eccetera ed è una cosa standard degli url quindi se io scrivo pippo che ne so alla fine non cambia niente non sto facendo qualcosa che modifica il mio url però questo è parte dell'url come la questione punto interrogativo name value questo verrà ignorato anche questo è parte dell'url quindi react router che va a leggere l'url per capire qual è la vista da visualizzare può utilizzare il valore ora noi non vogliamo utilizzare il punto interrogativo perché il punto interrogativo serve per i parametri e quindi nel momento in cui abbiamo degli url come parametri se noi abbiamo usato i parametri per fare un'altra cosa non li possiamo più usare invece il cancelletto cioè questo hash va bene perché è supportato diciamo così da tutti i browser perché diciamo è dall'inizio della storia degli url che è sostanzialmente utilizzabile negli url quindi anche i browser più vecchi lo supportano dopodiché possiamo scrivere quello che vogliamo e quello che vogliamo è quello che react in questo caso se usiamo l'hash router anziché che è il browser router va a gestire come parte dell'url che decide qual è la vista da visualizzare ok adesso magari vi faccio vedere un attimo in pratica cerchiamo un sito che usi questi non è bellissimo ma volevo vedere se c'era questo però lo fa diciamo vado a farvi rivedere in pratica per chi non li ha mai visti hash ecco allora questa cosa così quindi e il link a un fragmento voi nelle pagine web potete ingrandisco un po' queste cose le abbiamo date un po' per scontate non sono fondamentali nel senso che nel momento in cui lei vuole usare browser router i browser sono diciamo i browser più recenti ma anche non proprio recentissimi supportano tranquillamente questo browser router stiamo parlando proprio di browser vecchi quindi nel momento in cui fate un link a potete anche specificare un fragmento che inizia con questo hash ed è un link interno alla pagina e fa sì che quando ci cliccate sopra vi si sposti la pagina al frammento corretto e quindi è una cosa supportata da tutti i browser che gestiscono gli url e noi la ricicliamo senza creare questi questi link interni che si creano poi con a name anzi quello sopra a name uguale fragment name ma li usiamo per un altro scopo perché sappiamo che il browser li supporta e se non trova la a name semplicemente quel link non ha effetto quindi il vostro collega scrive in pratica allora arriviamo a queste domande l'uso del hash in una urla mi permette di muovermi automaticamente in una particolare sezione dell'applicazione single page no non è proprio corretto nel senso non la chiamerei sezione no perché la sezione è quello dell'html tradizionale faccio a name uguale nome della sezione ok quel fragment di cui dicevamo prima la chiamerei in una particolare pagina dell'applicazione single page questo si quindi più che sezione direi pagina perché ho detto di usare l'hash router e l'hash router si basa non su tutto l'urla ma solamente sulla parte che viene dopo il cancelletto dopo l'hash allora quella parte lì che è ininfluente per i browser vecchi anzi nuovi e vecchi indipendentemente dal fatto che sia nuovi e vecchi ma quindi tutti perché nel momento in cui non trovano il frammento a name uguale quello che abbiamo scritto dopo l'hash nella pagina non fanno nulla ok ha capito perfetto volevo farvi vedere l'applicazione che funzionava sperando che funzioni perché in realtà l'ho provata su su un altro computer quindi per prima cosa abbiamo bisogno di due finestre sempre uno react scores server lo faccio da fuori potevamo farla anche dentro visual studio code ma abbiamo poi solo un terminale dentro visual studio code quindi è più complicato qui ho fatto l'npm insta questo è il server quindi faccio node server e dovrebbe partire e lui parte su localhost 3001 e poi di nuovo qui faccio questa è l'applicazione react quindi faccio npm start e adesso vorrò aprirmi un browser sulla 3000 infatti mi vuole aprire chrome in realtà io sto usando però per fare la virtual classroom quindi se non lo tocchiamo è meglio e mi riapro il tutto ok quindi lasciamo stare chrome se no crea un problema con la virtual classroom io vado sul localhost 3000 questo è l'aspetto della mia applicazione ve la faccio vedere funzionare quindi login avevo già scritto username e password perché non ho voglia di riscrivervi tutte le volte e poi nel momento in cui faccio diciamo funziona esattamente come prima quindi niente di particolare la cosa poi arriva la domanda che ho visto sulla chat del vostro collega la cosa particolare è vedere che cosa succede nell'avanti e indietro nelle richieste http quindi allora io vado prima di tutto a ricaricare la mia applicazione quindi ricarico l'applicazione che riparte da zero perché lo stato iniziale di react è non logato vado in qui storage e vado a fare fuori tutto tutto delete all ok quindi non ci sono cookie questo è il posto dei cookie vedete che è il cookie abbiamo anche local storage e son storage che però non usiamo questo è il posto dei cookie quindi non c'è nulla in questo momento lascio aperto il tab network faccio il login e va a fare la richiesta di login no che è la prima API che vado a chiamare sul server e come vedete c'è una richiesta questo è il request header niente di particolare no solite storie accept vabbè di tutto contact type application json dove è il body della richiesta da qualche parte ah sarà params e c'era username password in json ok risposta la risposta è vuota nel body ma gli header di risposta vedete includono set cookie token non fatevi ingannare al fatto che se non ci cliccate sopra sembra corto ve l'ha accorciato ho messo tre puntini qui ma non finisce più quindi questo è tutto il set token è il set cookie token uguale tutto questo token vedete con i punti di separazione di tre parti e poi ha messo dei parametri dizionali che gli abbiamo detto noi quindi di scadere ad un certo istante questo è gmt http eccetera eccetera quindi è arrivato il set cookie infatti se noi andiamo nello storage nei cookies adesso deve spuntare fuori ecco e ogni tanto questa interfaccia non è il massimo non si aggiorna c'è il token questo è il token jvt non c'è scritto jvt c'è scritto token perché abbiamo deciso di chiamarlo token ok a questo punto l'applicazione ha fatto il login che ha avuto successo perché ha ritornato 200 io ho scritto nel den di andare a fare una serie di operazioni no quindi di andare a prendere il csrf token dopo lo vediamo e poi di andare a fare il caricamento di exam e courses no notate il caricamento di exam ha nella richiesta al cookie automaticamente non ho scritto una riga di codice perché il cookie viene inviato automaticamente cursis di nuovo avrà il token automaticamente di nuovo non ho scritto una riga di codice per questo ok e poi va bene ho preso questo csrf token che mi ha dato però di nuovo qui andiamo un po' più veloci csrf token e me l'ha calcolato così e in più per come funziona l'implementazione lo faccio vedere ma vorrei che ve ne dimenticaste c'è anche questa cosa per rendere il server stateless ma diciamo non mi interessa questa cosa qui è gestita automaticamente non voglio saperne a noi interessa solo questo che è il token jvt faccio ancora un'operazione e poi rispondo alle due domande che adesso sono sulla chat quindi network action faccio una modifica 24 modifica ok la modifica era la put la put di nuovo viaggia col cookie token e in più c'è questo csrf token che abbiamo aggiunto noi a mano che è quello che abbiamo nel nello stato di react e potete andarlo a vedere non c'entra niente con quel token che abbiamo visto prima dimenticatelo 8 ok eccetera andate nei component app app ha il suo stato e nello stato c'è csrf token 8 ok eccetera un po' piccolo ma è quello che mandiamo in javascript punto faccio l'ultima operazione logout poi rispondo alle domande in chat logout logout manda nella richiesta ovviamente il cookie perché viene mandato sempre la risposta ci fa set cookie token uguale vuoto expires nel passato questa è la maniera di far scadere un cookie e adesso se siamo fortunati che c'è la giornata è sparito il token non c'è più l'abbiamo buttato via però quel token come vi dicevo vi ricordo è ancora valido fino a quando non decide non è passata l'ora della scadenza ok rispondo alla chat perché non voglio monopolizzare diciamo tutto tutto l'ora e mezza sull'esempio quindi allora ho una domanda più generale quindi uno quando l'utente decide di aggiungere modificare eliminare un task questa operazione deve essere riportata immediatamente sul database anche al costo di generare molto traffico è preferibile gestire quanto più possibile lato client aggiornando meno spesso il database poiché probabilmente più utenti accedano allo stesso database nel secondo caso non si rischia che altri utenti accedano a dati incoerenti e non aggiornati e si ha ragione diciamo non c'è la risposta la risposta dipende da cosa vuol fare lei nella sua applicazione nel momento in cui ha tanti utenti e deve gestire tante richieste vuol dire che sta facendo tanti soldi mi avrebbe da dire e quindi avrai soldi per creare un database performante che può gestire tante richieste al secondo se vuole mantenere diciamo lo stato aggiornato per tutti quelli che accedono al db se no può decidere che periodicamente l'informazione viene scritta sul server pensate che so avrete sicuramente usato google docs oppure microsoft col suo sistema word online eccetera voi scrivete e lui non è che ogni carattere lo invia il server per salvarlo diciamo che ogni secondo due o tre prende quello che avete scritto e lo va a salvare sul server è un compromesso no non è che agli altri che guardano sullo schermo compare esattamente nello stesso istante in cui premete il bottone il carattere ogni due o tre secondi si aggiorna no e va bene ed è un compromesso no quindi quelli sono caratteri di un testo parole di un testo e noi abbiamo invece che sono una nuova riga nel database degli esami dipende da che cosa vuol fare io direi che nel nostro esempio nei nostri esempi possiamo più che altro per comodità di gestione far l'operazione mandando la richiesta al server attendere la conferma del server e visualizzare il risultato però è una possibilità potete anche decidere di fare diversamente con quella diciamo pattern di programmazione che avevamo chiamato optimistic update come di fatto fa poi appunto il google docs e così via voi scrivete e quello compare non è che aspetta la risposta del server per farvelo comparire se noi non riuscireste a scrivere però vi scrive in cima saving e poi saved quando è sicuro di averlo salvato questa è una possibilità noi non vogliamo arrivare a una cosa così complicata perché ovviamente è più difficile a gestire perché vuol dire che da qualche parte devo avere qualche indicazione del fatto se l'operazione è andata a buon fine o no sul server è chiaramente più difficile da realizzare nel codice javascript platto client di cliccare attendere la risposta del server e aggiornare solo quando è tutto aggiornato quindi spero di aver diciamo dato una risposta utile nel senso che la risposta vera non c'è perché dipende da cosa uno vuole fare se sicuramente è una strada più semplice che quella che ho indicato che insomma è ragionevole seguire un'altra domanda buongiorno ho letto velocemente la soluzione proposta visto che ad esempio quando viene aggiunto modificato eliminato si ritorna nel filtro all si questo l'abbiamo fatto per semplicità si potrebbe anche fare diversamente questo è vero io all'inizio per come stavo implementando la mia soluzione rimanevo nel filtro corrente però andavano gestite molte situazioni particolari infatti è proprio questo problema il motivo per cui abbiamo fatto lol in ottica di progetto d'esame se ad esempio se diamo una strada più articolata senza rendercene conto e poi dimentichiamo qualche situazione più particolare valuterete poi questo tipo di scelte e questa è una cosa da discutere un po' col professor corno nel senso che cioè è chiaro che se uno voglio dire finisco di leggere la domanda poi volevo chiedere fino a che livello gli errori dovrebbero essere gestiti per esempio con le fetch basta gestire fino ad api.js con reject che poi saranno visibili in console anche l'out di react con dei try catch componenti di errore e altro secondo me se un minimo partiamo dalla cosa semplice la seconda se un minimo di visualizzazione dell'errore c'è nell'applicazione secondo me è meglio poi cioè dobbiamo sempre trovare un compromesso ragionevole io adesso ho cercato di farvi vedere in questa applicazione come gestire la maggior parte degli errori però per dire se c'è un non so un problema di di connessione col database cosa che peraltro non si verifica mai perché abbiamo SQLite quindi li ho simulati per esempio facendo una query sbagliata per fare le prove diciamo che problemi di questo tipo forse potremmo ignorarli una minima gestione dell'errore secondo me sarebbe meglio di averla ecco quindi che so soprattutto dell'errore di tipo applicativo cioè adesso in questo caso nell'esempio che so degli esami non l'abbiamo implementato ma tipo aggiungo un esame che esiste già in questo momento noi abbiamo deciso di gestirlo come un aggiornamento però magari si potrebbe gestire dando un messaggio all'utente dire l'esame l'hai già ce l'hai già perché vuoi aggiungerlo piuttosto c'è la funzione di modifica questo può essere fatto sia lato client sia lato server di nuovo bisogna un po' decidere tornando indietro in ottica del progetto d'esame se c'è una strada più articolata e poi dimentica qualche situazione più particolare diciamo che cercheremo di trovare un compromesso diciamo apprezzando il fatto che uno ha cercato di gestire e l'ha fatto probabilmente bene sulla maggior parte dei casi e va bene non avrà gestito tutti i casi particolari magari non è che diciamo se tutto il resto è fatto bene secondo me uno può aspirare tranquillamente a un buon voto no? non è perfetto va bene dipende anche se è un caso estremamente particolare oppure se diciamo è un caso abbastanza comune nella logica dell'applicazione e così via no? queste cose fate bene a segnalarmele perché comunque col professor Corno ci sentiamo ogni tanto ci sentiremo sicuramente ecco avevo iniziato forse non l'ho fatto vedere tutto ci sentiremo a fine corso e probabilmente anche dopo però diciamo sicuramente a fine corso venerdì 12 giugno quando ci sarà già pubblicato il tema d'esame per il primo appello e saremo online sia io sia il professor Corno io sul corso in inglese italiano e lui sul corso in inglese però insieme a Luigi per il corso in italiano e all'altro suo aiutante Alberto per il corso in inglese in contemporanea in linea per voi ed eventualmente se ci sono questioni di questo tipo ci mettiamo d'accordo al volo su come vanno gestite se poi non ci stiamo in questa sessione eventualmente ne faremo una seconda e poi comunque faremo una chat per ogni una chat o comunque un momento in cui si possono fare questo tipo di domande per ogni progetto da sviluppare per i vari appelli d'esame quindi quello nel momento in cui abbiamo diciamo sotto mano il tema d'esame è anche un po' più facile rispondere perché rispondere così in astratto viene sempre da dire beh devi gestire un po' tutti i casi però effettivamente se sono casi estremamente limite casi diciamo molto particolari che dipendono dal fatto che non so l'applicazione sta gestendo un non so proprio qualcosa di particolare che non so è veramente non aggiunge niente a capire se uno è in grado di sviluppare l'applicazione perché la stessa funzionalità è già implementata in altri posti eccetera potremmo anche dire vabbè questa cosa possiamo anche ritenerla trascurabile o non non è necessaria che sia implementata per l'esame quindi magari il caso complicato esce solo in una situazione particolare che possiamo tranquillamente dire beh possiamo ignorarla per quanto riguarda l'esame quindi non ho una risposta diciamo definitiva secondo me dipende molto dal tema d'esame e diciamo sicuramente nel caso in cui uno faccia proprio il minimo ecco non è che questo è particolarmente apprezzato uno fa una cosa ragionevole diciamo in linea più o meno con gli esempi che abbiamo messo a disposizione e credo che questo sia diciamo non voglio dire sufficiente a passare l'esame nel senso che chiaramente è sufficiente a passare l'esame ma voglio dire a prendere un bel voto per l'esame ecco poi avevamo scritto anche che la valutazione è fino a 32 perché appunto diciamo c'è spazio eventualmente per qualche piccolo problema che non sia però di tipo concettuale o diciamo fondamentale nel senso che lo stato React si è usato bene appunto le richieste si sono fatte con la fetch in modalità sincrona non sincrona la fetch è sincrona di sua ma poi non è che mi ha fatto l'API sincrona perché ci mette la wait dentro l'API e così via quindi queste cose ovviamente sono cose importanti il resto bisogna un po' valutare ok volevo solo finire di farvi vedere un'ultima cosa però onestamente adesso mi sono ah ecco si nel momento in cui che so ovviamente usiamo un username e password differente potete fare tutte le prove no vedete qui c'è wrong username e password quindi c'è il componente che in app abbiamo login error true faccio x diventerà false sparisce è rimasto lo stato nel form ok mi autentico va bene volevo farvi vedere che nel momento in cui fate delle richieste separate forse macchinoso allora diciamo così potete provare a fare delle richieste separate ah no ecco possiamo farlo dall'url no perché il csrf token non ce lo consente quando facciamo dall'url facciamo sempre il get e non vediamo quello che ci fa fare quello che ci aiuta a fare il csrf token possiamo ecco possiamo far così facciamo siamo logati adesso lo storage andiamo nello storage facciamo fuori il token no quindi delete token c'è l'altro che però non tocchiamo non ci interessa e andiamo a fare un'operazione quindi io faccio la cancellazione e vedete che mi torna indietro authorization error e poi dopo due secondi perché avevo scritto così il codice sul lato client mi ha rimandato la pagina di login andiamo a vedere nel tab network cosa è successo io ho fatto la delete che mi ha dato risposta 401 un authorized e questo l'ha fatto automaticamente il middleware jvt perché non ha visto il token perché nella richiesta non c'era più c'era solo l'altro ma non c'era il token uguale perché l'ho cancellato a mano tanto per fare una prova e quindi mi ha risposto mi ha risposto beh mi ha messo il json perché così l'avevo scritto sul server dicendo che c'era un problema di autorizzazione e l'header dava 401 e io ho catturato questa informazione e l'avevo fatto mettere il messaggio di errore e poi è sparito da solo ma questa è una possibilità ho deciso io che dopo due secondi redirigevo sul login se no lasciavo lì e mettevo che so magari un qualcosa che mi facesse andare a login tipo un bottone vai a login oppure rifacevo il tutto con un link adesso che abbiamo imparato React Router potevo mettere un click vai al login e aspettare che l'utente cliccasse sono tutte alternative possibili va bene direi che abbiamo fatto le 11.30 anche un po' dopo non vedo altre domande sulla chat quindi vi ringrazio per aver partecipato a questo video chat che alla fine di fatto serve anche abbastanza per commentare diciamo quell'esempio che in effetti ha le sue peculiarità quello col JVT e tanto rimane la registrazione che adesso pubblico anche su YouTube e ci vediamo domani per il laboratorio grazie e a presto come sempre se avete domande ci sono c'è Slack e tutto quanto grazie a presto Grazie.